Sanremo benvenuti dottor vintage dottor vintage a Sanremo che sai allora la grande che fai qua ma stai scappato da Equitalia è arrivata la sua voce allora ragazzi perché sto presentando il mio singolo hai sentito poi te l'ho mandato ma hai fatto un bel commento sui social Equitalia mi hanno portato sette cartelle da pagare capisci e allora eccomi perché ho una serie di appuntamenti adesso Al Pacino mi ha acconciato per le feste certo e ci facciamo una passeggia dall'alto vedi qui guarda qui guarda troveremo scritto anche Equitalia qui si Equitalia di tutte le canzoni 79 è ovvio è un classico diciamo 2017 Equitalia è un classico 1978 siamo a ritrosi io ti amo a ritrosi 77 e quindi siamo vicino a Larison mi ha fatto piacere incontrarti ci incontriamo a Roma oggi ci incontriamo a Sanremo è bella questa cosa saluto a tutti grazie a tutti gli amici che ti seguono e in questo momento mi seguono ok e ti seguono e ci seguono perché c'è anche la crew c'è anche la crew la crew se mi fai un filmo piano esatto e Leonora che la dice ciao baby nessuno tocchi baby nessuno tocchi baby perché qua chi la tocca è la dottoressa baby è meravigliosa l'avete vista nel video quanti vorrei essere curati della dottoressa baby l'avete vista nel video la vedete in carne e carne perché le cose la lasciate a Roma è tutto bene tutto a po tutto a mille e soprattutto sulle mano sulle mano sulle mano al signore alzare mano su tutti Aguitalia 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 siamo a Larison allora con noi poi abbiamo il diciamo la crew Federico Federico ciao Fede l'etichetta no no qui Aguitalia ci ha fatto scappare in Alta Italia Aguitalia no ci sta scappare proprio dall'Italia Aguitalia che da qui al confine è un attimo è un attimo ci arrivano qui ai confini è un attimo siamo arrivati all'Ariston oh signore ma questo è questo è l'Ariston no? no ma io mi sono aspettato eh siamo grazie a tutti